Margherita Oggero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, sono contenta di risentirla. Ed eccoci qua, ci ritroviamo nel posto delle parole per condividerla a sua nuova scrittura, romanzo pubblicato da HarperCollings e romanzo intitolato Brava Gente. Margherita Oggero, leggo nel risvolto di copertina, nata a Torino dove vive, ha lavorato lungo come insegnante, collaborando stabilmente con diverse emittenti radiofoniche. Lei si ricorda come mai ha cominciato con la radio? Sì, me lo ricordo. Ho cominciato con la radio perché avevo seguito durante il liceo un corso di teatro, non un corso di recitazione, ma di teatro tenuto da Gian Renzo Morteo, che insegnava sostanzialmente come passare da un testo scritto a una rappresentazione sul palcoscenico, oppure anche come inventare un testo drammaturgico. Dopo l'esame di maturità ho mandato una di quelle lettere che si ha il coraggio di mandare solo quando si ha l'arroganza o l'incoscienza della giovinezza, dicendo che spero fare un sacco di cose, che non era vero naturalmente, ma insomma anche gli adulti poi, che assurgono cariche importanti, mandano dei curriculum un po' taroccati. Comunque, alla RAI combinazione c'era stato un diverbio tra un regista che si occupava di una trasmissione e la RAI stessa, e quindi mi hanno trovato questa lettera assolutamente assurda, mi hanno mandato a chiamare. Insomma, non è che fossero molto contenti, però mi hanno affidato questa trasmissione mettendomi sotto la guida di Massimo Scalione. Eh beh, mica da poco, grandissimo regista. Sì, certo, che siccome la trasmissione andava in onda molto presto, alle sette bene un quarto, e lui amava dormire fino a un'ora un po' più decente, e abitava proprio di fronte alla RAI, in via Verdi, anzi via Montebello all'epoca, scendeva direttamente in pigiama con un impermeabile sopra, eccetera, comunque mi ha insegnato come fare. Per cui ho lavorato per alcuni anni alla RAI di Torino, e poi nel frattempo mi sono laureata, ho fatto i concorsi, anzi prima l'abilitazione, poi i concorsi, poi a un certo punto ho smesso, e mi sono messa a insegnare. E poi si è messa a scrivere, e da lì sono arrivati i successi dei romanzi, la collega tatuata, la ragazza di fronte, una volta si diceva le riduzioni televisive, invece adesso le versioni... Sì, era bella questa parola, le riduzioni televisive. Televisive, sì, perché erano sempre un po' riduzioni, erano giustamente adattate ad un mezzo diverso rispetto a quello che è la carta stampata, o altri mezzi di diffusione, insomma. Margherita Oggero, entriamo adesso nel suo romanzo. Sì. Entriamo, ma non troppo, perché qui nel posto delle parole, come diciamo noi, amiamo stare sulla soglia, no, delle storie, quindi diamo delle suggestioni. Ma cominciamo dall'immagine di Copertina. C'è questo rosso che ci accoglie, ma poi c'è un'immagine. Che cosa ci dice questa immagine? C'è una donna che legge. C'è una donna che legge e è una delle protagoniste delle storie narrate nel libro, anzi, una di quelle dalla cui famiglia, marito e figlia, insomma, partono tutte le altre che si sgomitolano intorno a lei e alla figlia e appunto al marito, perché è una storia corale e quindi sono tanti i protagonisti. È una storia corale dove i protagonisti diventano anche i comprimari, quelli che compaiono poco diventano protagonisti anche loro e questa è la scrittura molto particolare di questo romanzo. È veramente corale nel vero senso della parola. Sì, volevo raccontare una storia che non fosse incentrata sui soliti, non sui soliti per carità, sui drammi un po' borghesi, eccetera. Volevo raccontare intanto una storia ambientata in periferia e in una delle periferie più disastrate di Torino o se si vuole usare quel bellissimo verbo che ha usato Renzo Piano, meno rammendate, però potrebbe essere anche la periferia di un'altra città mediografica. Siamo alla barriera di Milano a Torino. Sì, qui siamo in barriera di Milano. E qui la barriera di Milano è nota, anzi era nota perché le cose ovviamente cambiano nel corso del tempo e qui c'è la periferia che diventa anche protagonista. Ma questo libro anzitutto mi ha sorpreso una cosa e voglio condividerla perché sono molto contento di leggere queste parole tra parentesi, ma ognuno frana per conto proprio. Sarà la terra da andare via da noi. Queste parole sono di Beppe Mariano, La guerra di animali e camminanti. Ora, qui nel posto delle parole noi abbiamo incontrato tanti scrittori, tante scrittrici, ma Beppe Mariano mai? E pensare che Beppe Mariano, queste sono le cose, non dovremmo dirle se fossimo chic, ma diciamo anche queste cose perché fa parte della realtà, Beppe Mariano potremmo dire è quasi a pochi metri di distanza da questo studio e trovare questa citazione mi ha fatto veramente molto piacere. Come mai la scelta? Ma perché io ho letto le poesie di Beppe Mariano? Questa, lui, insomma il testo da cui sono stratti questi due versi, lui non lo chiama neanche poesia, lui lo chiama prosimetro, eccetera. Però è una storia in versi, diciamo così, in versi non ritmati, eccetera, di una traversata e la scoperta di un destino. Insomma, comunque io ho letto, credo, quasi tutti i libri di Beppe Mariano perché mi piacciono e perché lo considero un amico, insomma. Ci sono vite che nessun oroscopo riesce a pronosticare attendibilmente. Troppe variabili, troppi eventi accidentali. Questa frase mi ha fatto sorridere molto, frase in quarta di copertina, perché Margherito Gero, io mi sono chiesto, ma sono ancora tanti i lettori degli oroscopi? Io credo proprio di sì, io penso molti, molti, anche in... è contento. Certo, a me piacciono gli oroscopi per sorridere qualche minuto. A me, per sorridere, certo, sì, 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 sì. Io in lano di sicuro, ma per sorridere, quindi. Eh, vabbè, oppure magari anche per conquistare quei cinque minuti di fiducia in qualcosa di migliore, nell'incontro con qualche persona che può cambiare la nostra vita, non lo so. Io, devo dire la verità, non ci ho mai creduto. Certo, che non c'è da credersi, però se uno la prende in maniera simpatica, credo che... Sì, sorridente. Ma certo, ma certo. Chissà se... C'è anche una che fa gli oroscopi in questo libro. Eh sì, sì, sono proprio lì che volevo arrivare, ma anche se fa gli oroscopi, pur dandosi da fare con tutta la psicologia di cui si può essere dotati, forse, senza svelare più di tanto, non si riesce. Ma andiamo a conoscere Linda, questa madre che è una madre che arriva da una famiglia potremmo dire ricca, benestante, e lei, pur essendo ricca, benestante, che cosa fa? Anche qui, nessun oroscopo potrebbe anticipare questo, no? Nessun oroscopo che dice, guarda che nella tua vita tu sei ricca e benestante, vai a sposare un camionista, perché altrimenti quell'oroscopo uno lo getterebbe. E invece Linda sposa un camionista. Sposa un camionista, sì, signore. E come dire, il matrimonio non è neanche proprio felicissimo, anche perché lei si è formata, cioè ha formato la sua educazione sentimentale, diciamo così, sui libri di Angelica, che andavano molto di moda qualche decennio fa, le ricompre usati, però insomma modella le sue aspettative sentimentali e di vita sulle avventure di questa protagonista di una serie lunghissima di libri, credo che siano 12 o 14. E non si trova proprio agio con il mondo di oggi, perché lei sogna l'aristocrazia, sogna quello che non c'è, infatti dice gli uomini da noi, non si tolgono il cappello quando incontrano una signora. Al massimo hanno dei berretti, alcuni anche con i paro orecchie. Questo l'ho scritto per scherzare, giocare un po' con Bruno Gambarotta, che porta i berretti con i paro orecchie, che mi dice che è molto infelice perché non li trova più, cioè non li trova più nuovi da comprare. Quindi un po' un gioco, ecco. Eh sì, questo è vero, non si trovano più anche perché io stesso testimone di questa cosa trovi le coppole, trovi altre cose, molto difficilmente trovi quei tipi di berretti. Ma a proposito di lettura, a proposito di lettura di questi libri, ma che siano libri importanti o che non sia, che siano libri meno importanti, forse la lettura ti cambia anche la vita, no? Poco per volta, adesso non è che puoi arrivare a leggere subito alla ricerca del tempo perduto, devi fare i tuoi passi e partendo da Angelica, piano piano forse serviva. Non lo so lei quanto ci arrivi, però ci arriva la figlia, che parte da ancora peggio, cioè parte da quei giornaletti gratuiti che si trovano alle fermate dei trama, eccetera, eccetera. Era un po' quello che speravo si capisse, ma evidentemente lei che è un lettore l'ha capito. E cioè che la lettura, qualunque cosa si legga, tutto sommato, in qualche traccia la lascia, perché la parola scritta si ricorda di più dell'immagine. Cioè l'immagine sembra il momento più persuasiva, ed è più immediata, però la parola scritta poi scava, fa come i tarli, insomma. E quindi attraverso la parola scritta, qualunque parola scritta, non necessariamente Proust, Musil o chi vuole, anche quella di romanzetti da poco, insomma, di non grande spessore letterario, o anche addirittura da giornaletti che si trovano, alle fermate dei trama, però poi hanno un effetto. Oppure anche i settimanali, quelli del pettegolezzo, no? Certo, anche sui settimanali del pettegolezzo. Sì, e quindi questo romanzo è un romanzo che porta in sé molta ironia, ma porta in sé anche delle disgrazie, no? Come si dice, le disgrazie non vengono mai sole, no? No, 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 certo. In quello, come lei chiama, nel suo disincantato pessimismo. E queste disgrazie modellano il carattere, modellano lo sguardo di queste persone, soprattutto donne. Ma anche gli uomini, tutto sommato. Anche ad Adriano, per esempio. Anche gli uomini. Ma anche a Oreste. Eh sì. Cioè, che non è proprio, come dire, il marito che uno augurerebbe a un'amica cara. Però, a suo modo, riesce a tenere insieme poi tutto. Ed è insieme anche fornito di generosità, come quasi tutti i personaggi. Tolto proprio un po', Adriano è il professore universitario. Però questa generosità, se non ho letto male, deriva anche un po', Margherita Uggero, da questa storia che lei pesca nella povertà, no? È il racconto di Barriera di Milano, è la periferia, e non si tratta di povera gente. Sì. Generosa proprio perché povera. Eh, in qualche modo sì. Poi non è che si comporti sempre... Eh vabbè, un po' di furti ci sono, no? Eh, un po' di furti, certo. Non solo. E' anche qualcosa di peggio. Eh sì. E' anche qualcosa di peggio. Però, non so, io credo che nessuno di noi, forse solo i santi, quelli che sono santificati o non sono santificati, però sono stati santi, ignoti, non abbia mai commesso qualcosa che sta sul discrimine tra legale e illegale, oppure anche cade un po' nell'illegale. Magari minimo, però non lo so se andiamo... Io credo che di persone totalmente innocenti di fronte a qualunque azione della propria vita ce ne siano molto poche. Eh sì. Questo però... Prego. No, no, mi scusi. No, no, prego, dica Margherita. No, anche se non sono apparentemente persone che uno vorrebbe proprio avere come amici, però poi si rivelano in certe circostanze pronti a mettersi in gioco anche per persone che conoscono relativamente poco. Capita. Eh sì. Capita. Capita, perché capita, per esempio, come pensavo a un certo punto, se ricordo bene Ludo, no? Quando dice, ma... Gli uomini decenti ce ne saranno ancora, non sono mica tutti come... Sì, certo. ...Adriano, se ricordo bene, Giaere. Sì, sì, Adriano. Sì, sì. L'Adriano che le ha fatte ricotte di crude, quindi gli uomini decenti in questo romanzo e sì che ce ne sono, basta cercarlo. Sì, certo, ce ne sono. Non sono dei santi, però sono degli uomini decenti, perché anche Oreste è decente, anche se la storia... Vabbè, non diciamo come finisce la sua storia, però alla moglie vuole bene, anche alla figlia è salta fuori che lui si è battuto per evitare che la figlia in un certo momento potesse essere presa in carico dai servizi sociali che poi tante volte possono generare degli scompensi maggiori di quelli che cercano di far scomparire. Insomma, lui si è battuto per la figlia, solo che non ha saputo dirglielo. La figlia l'ha scoperto tardi, però Deborah, detta Debbie, cambia molto nel corso della storia, insomma. Grazie al giornaletto. Sì, ma io voglio dire come va a finire questa storia, perché i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, abbiano contezza di quello che è l'aspetto, perché nell'ultimo capitolo, Margherita Oggiara, ci parla di accelerazione della Terra, niente meno. Ora, siamo passati dalla barriera di Milano all'accelerazione della Terra. E quindi mi fermo perché, certo, mi fermo perché voglio che lo scoprono i nostri ascoltatori, perché se l'accelerazione della nostra povera Terra dovesse aumentare, succederebbero delle cose che, chi lo sa, non ci auguriamo, che non ci auguriamo troppo. Altrimenti non potremmo più leggere nessun libro, per esempio, come questo, di Margherita Oggiara, pubblicato da HarperCollins, Brava gente, e ricordo ai nostri ascoltatori, Margherita Oggiara sarà ospite al Salone del Libro di Torino, ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Le Ferrovie del Messico, che trovo bellissimo. È un libro veramente... E mi fa piacere... Prego. Eh no, mi fa piacere perché è un libro italiano. Ed è un libro piemontese anche. Piemontese, tra l'altro. Gian Marco Brillo. Non è regionalismo. Non è regionalismo. Però fa piacere, così come l'anno scorso avevo trovato assolutamente imprevedibile, bello, eccetera, quello di Zannoni, che ho invidiato tantissimo. Perché ho detto uno che ha 25 anni, scrive un libro così, tanto di... Tra l'altro noi abbiamo scoperto Ferrovia del Messico, lo voglio sempre ricordare perché mi fa piacere dire anche le cose come stanno. Grazie a Giulio Mozzi. Giulio Mozzi ci scrisse una voto, dice guarda che vorrei sottoporvi un romanzo, e ci disse subito, metto le mani avanti, questo romanzo non ha 100 pagine, perché lui sa la mia passione per i libri brevi, ne ha forse 900 e qualcosa. Ecco, Ferrovia del Messico di Gian Mario Griffi, pubblicato da Laurana, oltretutto candidato al premio strega. Beh, certo, sono molto contenta, molto contenta che sia un autore italiano, vabbè, lo strega italiano, oltre quelli internazionali, ma che poi sia anche così dotato di ironia, così dotato di capacità di affabulazione, lo trovo un libro bellissimo. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, Margherita Oggello. Grazie a voi, grazie a lei, e a chi ci è stato ad ascoltare. A presto. Grazie.